Ehi bella gente, il doc è qua presente con Bolo dietro, con Bolo che sogna l'Europa, con Bolo che sogna l'Europa, quando è uno squadrone del genere, quattro, 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 a dove cazzo volete andare, questo Bolo, questo Bolo si pira l'Europa, quarto posto è suo, solo l'Atalanta può rompere il cazzo, ma il Bolo ci crede, allora, Orsonaldo, un fenomeno, Orsonaldo un fenomeno, Guardate, guardate la Bolo, guardate la nuova città che ospiterà il Real Madrid, il Barcellona, tutte, Bolo, prossimo anno, segnatevelo, finale di Champions League, segnatevelo, comunque che dire, Tiago Motta è un fenomeno, io davvero ho giunto lì, ti prego portamelo alla Juve, Zirk è un fenomeno, Orsonaldo fortissimo, Saleme che è forte, mi dispiace per Calafiori, spero che non si è fatto niente, il ragazzo, cavolo, dopo il brutto infortunio che ha avuto nel sinistro, speriamo che il destro lo molli un attimo, raga, è fortissimo sto Bolo, i due nuovi entrano, segnano, vincono, cioè, quello nuovo, cioè, oggi quello che ha fatto il primo gol, il primo gol in Serie A, entra uno nuovo, prima presenza in Serie A, gol anche lui, cioè, raga, è una squadra pazzesca, pazzesca, pazzesco, pazzesco e Tiago Motta è pazzesco, Orsonaldo, se giocasse sempre così, sarebbe top 20 al mondo, problema che discontinuo, perché sennò, farebbe paura, Zirk è un altro fenomeno, comunque, 4-0, tutti a casa, i cani abbaiano, Cobi è incazzato come una mela, perché dice, uh, ma come vi permettete di abbaiare vicino a casa mia, Cobi, diglielo, un bacione dal doc, iscrivetevi, e il Bolo, il Bolo, quest'anno arriva a quarto, come 4 gol che ha fatto, quarto, ricordatevelo, iscrivetevi al canale.